La Città La Città è meglio tornare a casa vivi in tempo piuttosto che morti e in ritardo e a quanto pare Spider-Man sta aiutando attivamente il Maggia nello scontro tra fazioni Spider-Man o Spider-Manigoldo a voi la scelta Un attimo c'è una parola chiave Ripeto, ci segnalano una sparatoria al locale di Hammerhead Il bar senza nome Inviate le unità disponibili Qualcuno ha attaccato il bar senza nome Devo arrivare lì prima della polizia e raccogliere informazioni Il bar Il bar A tutte le unità, segnalato in seguimento, colpi di arma da fuoco. Agenti in zona, convergere verso Hamilton Heights. Ok, sono arrivato prima della polizia. Vediamo cosa è successo qui. Ci sono andati pesanti. Ma chi è stato? Yuri. Non ho mai visto Yuri perdere il controllo così. Ehi, quella cos'è? Spider-Bot! Wow! Non avrei mai sperato di rivederti tutto intero. È un telefono. Chiamata da Vinny. Pronto? Gino, dove sei? La poliziotta ha fatto saltare il magazzino sulla terza! La poliziotta? Watanabe, o come si chiama? Ha distrutto tutto! Io porto i feriti al Mercy General, poi raggiungo gli altri e mi preparo per stasera! Sì, giusto un ripassino. Che succede stasera? Hai preso una botta in testa! C'è il grande show! Il capo vuole tutti sul pezzo. Datti una mossa e vai al punto di ritrovo! Il grande show ammere da un piano per i padrini. Ma devo saperne di più. E la pista migliore è trovare questo bambino. Spero di arrivare in tempo al Mercy General. Prima di lasciare la centrale, Fury ha detto di voler instillare paura. Ma più di quelle parole, mi preoccupa l'espressione che aveva. Vista sul volto di troppi criminali, ma mai di un agente di polizia. Mercy General. Ok, scansionerò le chiamate telefoniche degli ultimi cinque minuti. Se il mio amico Vinny è ancora qui, dovrei riuscire a rintracciarlo. Ci spero. Rilevo diversi segnali, ma devo avvicinarmi per riconoscere l'ID di Vinny. Ora devo solo isolare il segnale. No, non è Vinny. Dai, Vinny, fatti trovare. No, continuiamo a cercare. Ti prego, fa che sia Vinny. Non è il suo ID, cavolo. Questo qui promette bene. Niente da fare. Andiamo. Deve essere ancora qui. Mi sento una spia. La me... Andiamo, andiamo. Sì, è lui. Grande, Vinny. Ecco Vinny. Meglio restare vicino, ma non troppo. Secondo Vinny, a Mereda in programma uno show per stasera. E dubito sia a Broadway, o off-Broadway, o teatro sperimentale da qualche parte all'Udlow. Aiutami, Vinny. Sei la mia unica speranza. Sale su una macchina. Pessima mossa, Vinny. Dove lo ritrovi un parcheggio come questo? Dopo aver rapito i padrini, a Mered sono rimasto buono e calmo. Scommetto che tutto ruota intorno a loro. Devo solo scoprire di cosa si tratta e arrivare a Mered prima di Yuri. Accidenti, Vinny. Lungi da me insegnarti a guidare. Ma potresti almeno far tinta di seguire le regole? Questo deve essere il punto di ritrovo indicato da Vinny. Potrei origliare in giro e raccogliere informazioni sul grande show. Allora, quando andiamo al cantiere? Più tardi, il capo vuole la luce giusta. Drammatico come sempre. D'accordo, fammi sapere se vedi Gino, ok? Gli avevo chiesto di aspettarmi qui. Qualunque cosa succeda stasera, il teatro è un cantiere in costruzione. Ma quale? A Mered ne controlla una mezza dozzina. Sogni d'oro. Spider-Man è stato qui! Sì! Buonanotte! Cambio della guardia, ora tocca a me, grazie. Come si! Starla! Giglio della guardia, ora tocca a me. Verdi! Proposito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'è finito Gino? Doveva pensare lui al cemento. Lo spettacolo inizia alle nove. Non possiamo cazzeggiare. Controllo io le betoniere. Alle nove sarà tutto pronto. Promesso. Lo spettacolo inizia alle nove. Buono sapersi, ma dov'è il posto? No. 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 Ma perché Amered non è un normale boss del magia? Sai, di quelli che gestiscono aziende della nettezza urbana, indossano tute, mangiano polpette e magari si concedono qualche truffa. Perché deve avere queste ambizioni? Forse è colpa della placca che ha in testa.